Ai nostri microfoni anche Fabio Cristarelli, uno dei membri del CDA del Casoria. Anche oggi si vince, l'importante è dare continuità dopo la vittoria di domenica, un 4-0 secco senza replica. Sì, effettivamente anche oggi abbiamo visto un buon Casoria, vediamo sempre giornata dopo giornata un Casoria che caccia gli artigli in campo e dobbiamo continuare su quest'onda. Il cambio in panchina risulta in questo momento chiaramente decisivo e importante? Assolutamente decisivo ed è simpatico anche l'area comunicazione, continua a taggare con l'hastag la manna dal cielo e penso che sia proprio il caso giusto. Domenica si torna al San Mauro dopo la festa straordinaria di domenica scorsa contro la Grumese? Sì, prima direi che domenica si torna al San Paolo ci terrei al San Mauro, ci terrei a ringraziare tutti i tifosi che anche oggi sono accorsi in massa. Prima l'Apsus è dovuto al San Paolo perché comunichiamo che noi chiederemo alla federazione l'anticipo della gara di domenica alle ore 10.30 in virtù del fatto che alle ore 12.30 si disputerà a Verona-Napoli. Quindi chiediamo ai tifosi casoriani di seguirci in massa anche domenica allo stadio. E poi dopo tutti attifare il Napoli? E dopo tutti attifare il Napoli?